come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità proprio come quella di oggi che tra l'altro apre una parentesi questo video non era neanche in programma per oggi è perché oggi non era in programma niente e perché questa sera c'è la diretta live però però cosa è successo è successo che è stato pubblicato un messaggio da parte dell'inps ieri secondo me ieri sera tardi dove ci viene comunicate le ci vengono comunicate le date di pagamento dell'assegno di inclusione tra l'altro tra l'altro sia il ministero del lavoro che l'inps hanno fatto in contemporanea lo stesso messaggio però quello del ministero del lavoro è molto più semplice limpido chiaro scorrevole leggibile quello dell'inps è molto più elaborato è vero che da molte più informazioni però per dare un'informazione ci mette tre ore invece quello del ministero del lavoro è molto sbrigativo spicciolo allora io ho preso quello del ministero e facciamo prima poi tra l'altro più avanti vi faccio vedere anche lo schemino così rimane più impresso e si capisce meglio e qui sotto nella info box e vi lascio anche il collegamento e allora il messaggio del ministero del lavoro ci dice questo con il messaggio numero 25 del 3 gennaio 2024 parentesi siamo solo al 3 di gennaio l'inps ha già sparato 25 messaggi complimenti all'inps dice che l'inps specifiche i tempi di erogazione dell'assegno di inclusione e fornisce le seguenti precisazioni secondo quanto previsto dalla circolare 105 del 16 dicembre quella che già siamo abituati a conoscere per le domande presentate entro il mese di gennaio 2024 con il patto di attivazione digitale il pad sottoscritto entro lo stesso mese e con esito positivo dell'istruttoria l'erogazione del beneficio potrà essere riconosciuta dal mese di gennaio medesimo quindi dal mese di gennaio verranno pertanto avviate le verifiche istruttorie sulle prime domande presentate per poter disporre i primi pagamenti quindi da gennaio praticamente verranno fatte le prime verifiche sulle domande e ci danno queste tempistiche e ci danno queste tempistiche adesso non so se metterò adesso lo schemino o più avanti comunque intanto ve le dico allora per le udite bene udite bene prendete nota così se vi perdete potete tornare indietro nel video e ve lo riascoltate e quando avete dei dubbi vi riguardate lo schemino allora per le domande presentate entro il 7 di gennaio quindi ancora tra tre giorni con patto di attivazione digitale sottoscritto pad entro la medesima data attenzione domande presentate entro il 7 con patto di attivazione digitale sottoscritto entro la medesima data e con esito positivo dell'istruttoria i pagamenti verranno disposti dal 26 di gennaio e allora io cosa vi avevo detto nel video precedente che secondo me e le date erano le stesse identiche di rdc infatti sono le stesse identiche di rdc ma andiamo avanti e vedete che sono hanno rifatto tutto uguale tutto uguale a rdc non è cambiato nulla poi andiamo avanti e ci dicono per le domande presentate dopo il 7 di gennaio quindi dall 8 diciamo e comunque entro il 31 di gennaio con pad sottoscritto entro il 31 di gennaio ed esito positivo dell'istruttoria il pagamento della mensilità di competenza di gennaio verrà disposto dal 15 di febbraio e poi dice dal 27 febbraio verrà pagato l'importo del mese corrente febbraio pertanto il pagamento sebbene avviato a febbraio prevederà il riconoscimento anche della medesima mensilità di gennaio e poi per concludere per le domande presentate dal mese di febbraio quindi tra tre settimane analogo e analogamente per le domande presentate nei mesi successivi ecco il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del pad i successivi pagamenti verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza quindi per capirci siamo tornati indietro nel tempo io avevo detto che non avevano scoperto l'acqua calda infatti non hanno scoperto nessun'acqua calda questo cosa succederà che poi dal primo di febbraio al 29 di febbraio cosa succede che se la sottoscrizione del pad viene fatta entro il 29 di febbraio o comunque l'ultimo giorno del mese e l'esito positivo dell'istruttoria arriva per dire a marzo il primo pagamento arriva dal 15 di marzo pagamenti successivi il pagamento successivo della mensilità viene poi fatto dal 27 di aprile ok pagamento mensilità di aprile dal e quindi poi dal 27 del mese di dal 27 del mese successivo ok quindi ha visto quindi per concludere tutti quelli che hanno fatto domanda dal 18 di dicembre al 7 di gennaio che hanno sottoscritto il pad fino al 7 di gennaio hanno avuto l'esito positivo al gennaio riceveranno il primo pagamento dal 26 di gennaio il 15 ci credevo proprio poco poco perché questi si dovevano organizzare anche per la stampa delle carte la ricarica dei soldi sulle carte insomma c'era un attimino che tra l'inps e le poste e diamogli un attimo che si dovevano organizzare un attimino poveracci non è che potevano fare tutto in due settimane è praticamente impossibile muovere una macchina così una macchina statale e così in fretta era impossibile quindi era normale che arrivassero dal 26 quindi diciamo 26 27 con con eventuale elaborazione del pagamento a partire secondo me dal 22 23 a questo punto c'è da da vedere da vedere questo la distribuzione delle carte perché ma bisogna dar tempo anche al sistema di avvisare tutte le persone di andarsi a ritirare le carte e secondo me visto che siamo già al 4 ed è giovedì secondo me prima dell'otto nove prima dell'otto nove secondo me non si vede niente ancora però considerando che hanno detto che dal 26 dovrebbero partire appunto il primo pagamento e minimo 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 le carte almeno dovranno essere distribuiti o nella settimana dell'otto o nella settimana del 15 e quindi lunedì 8 o da lunedì 15 e comunque per dar tempo alla gente di andare in posta fare la coda ritirare le carte insomma capirci tutto quanto e fare in modo che anche sta povera possa si ritroverà con una massa di gente che andrà lì di colpo a ritira tutto insieme ovviamente a ritirare le carte quindi nel discorso del ritiro delle carte adi secondo me come ho detto o la settimana dell'otto della quindi la prossima settimana o la settimana dopo giusto da avere tempo poi intorno al 26 di avere la ricarica però però c'è anche da dire che allora hanno detto che prima ricaricano la carta e poi avvisano di andarla ritirare attenzione attenzione anche a sto fatto perché hanno sempre detto che la consegna della carta avverrà dopo la prima dopo la ricarica quindi o o fanno la settimana prima oppure secondo me se ne riparla al 29 quindi stiamo a vedere adesso io non non do ancora delle date precise perché non ce l'abbiamo ancora le date precise di quando verrà consegnata la carta però come che loro hanno detto che la ricarica viene fatta prima di consegnare la carta e qua ci dicono che il primo pagamento viene fatto dal 26 o le date del 15 o le date dell'otto e del 15 non vanno bene oppure le carte verranno consegnate a partire dal 26 27 29 30 e 31 staremo a vedere voi continuate comunque a rimanere iscritti al canale così appena ci saranno delle novità ve lo farò sapere immediatamente e nel frattempo se avete altre novità da segnalarmi o da comunicarmi mi raccomando fatemelo sapere qui sotto nei commenti oppure entrate nella chat quella che ho aperto su telegram che si chiama luigi youtube e avvisate anche tutti quanti là dentro così ci teniamo aggiornati tutti e non ci perdiamo pezzi per la strada bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao